e moriamo un grande giornalista di ero angela adesso come sempre aspetto che delle persone entri non chat poi devo fare aggiustare le impostazioni che dal cellulare mi è impossibile vediamo un po scusate allora vediamo un po vediamo un po allora vediamo vediamo proprio vediamo vediamo che intanto va avanti sono due persone che mi seguono sono molto contento ma devo cambiare un po di impostazioni purtroppo allora è sempre così l'inizio delle live c'è anche non metto l'intro ma eccomi qua ho trovato in qualche modo il video da correttere ecco qua intanto non so se avete scritto vediamo un po di togliere quest'ante prima cambiare cambiare il nome scusate poi si vedere si vedrà un po ecco qua così è già meglio sempre che due persone due like vi ringrazio molto vediamo se ci sono commenti certa dal vivo a se ci sono commenti adesso passo a commentare appena posso appena me lo consente youtube perché qua chiediamo alla monetizzazione vabbè bisogna rivedere il video intanto divertitevi a cercare perché io sono accassinato ben accassinato sono diciamo come l'ho detto live no ma non è una parola diciamo ciò con qualche difficoltà persone allora ricordiamoci il grandissimo giornalista italiano che è un pratico seguito fin dagli anni della mia infanzia perché mia madre quando quando diciamo lavava la casa l'appartamento nel quale vivevamo in leon pan caldo che non so come si chiamasse il quartiere mi lasciava davanti alla tele a guardare la tele e a quelle all'epoca nella mia infanzia non c'erano tanti programmi televisivi capito c'erano tanti programmi televisivi della mia infanzia allora c'era piero angela che diceva le notizie vuoi come inviato speciale vuoi come giornalista ecco finalmente sto finendo intanto lanciano pure ciao ciao e non riesco e non riesco e non riesco c'è un sacco di canali che si fanno chiamare lo youtuber più famoso del mondo io mi sono scordato ma l'altro questo è un sacco di canali non so se ne vediamo ma sono scordato non so ma non so sono scordato non so non so ma non so ma non so no vabbè non lo mettono tanto in quel profilo ecco qua così ho lanciato anche ecco qua allora ci siamo allora salve salve veri che come va buon venerdì da tanto tempo che non facevo una live è stato grande se un grande 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 grazie a te fine settimana pierfi fine settimana grazie adesso vado a iscrivermi al tuo canale quando è finita questa questa live allora dicevo in memoria di piero angela un grande giornalista io mi ricordo che mia madre puliva l'appartamento che io avevo qualche anno di vita anche qualche mese mi metteva davanti al televisore in pratica io guardavo anche i telegiornali perché erano gli anni gli anni 70 sono nato nel 69 il 26 gennaio 1969 e non è che ci fosse molto nella rai sì ma adesso non stanno qua allora dovrei andare in giro con il cellulare ma voglio fare un video tematico allora grazie per i tre like anzi vedo che sono quattro e lui ha fatto il giornalista l'inviato speciale della rai e poi io faccio due libri due libri uno che gli aveva comprato mio padre costati 7000 lire questo è costato 7000 lire viaggio nel mondo del paranormale una inchiesta sui fenomeni paranormali dove gli esamina scientificamente limiti alla berlina giustamente poi io ho fatto un video su questo libro io ho fatto un libro un video ho fatto un video su questo libro spiegando appunto l'importanza di leggerlo era edito dalla garzanti non so se lo evita qualcun altro magari lo rieditano magari oggigiorno si vende nei nelle edicole perché le edicole si sono trasformate in librerie quindi hanno rilanciato anni fa i disegni di jacoviti nelle edicole non in libreria e adesso forse faranno un'edizione limitata di questo del libro e anche di altri perché se si approfitta di tutto quindi si approfitterà della morte del grande giornalista ma guardate guardate questo libro e andatelo a comprare si si è occupato di paranormale caro di eric ma naturalmente non da paranormalista o cose del genere ma da scienziere da con uno sguardo scientifico intervistato scienziati ha intervistato neurologi e quindi ha smontato ogni teoria ogni teoria dei videnti che poi appunto uno che ha forze mentali inaudite riusciva a sollevare da un millimetro di un millimetro una monetina dal tavolo e si sforzava pure faceva la scena che si doveva sforzare che si era stava affaticato no è uno che faceva soldi ma non ha mai lavorato vita sua e poi e poi ha fatto anche scritto anche poi questo questo libro è una sintesi di quello che ha detto perché io avevo visto all'epoca il libro l'ho letto anni dopo non so se incluso l'ho letto dopo il 2000 in pratica l'ho conservato perché era di mio padre e di vabbè adesso sta nella biblioteca di casa e di famiglia ma aveva fatto una una serie di trasmissioni viaggio nel mondo del paranormale che iniziava con la con la stessa musica di quark e se voi cercate in youtube forse ancora disponibile io ho visto che qualcuno ha caricato forse perché l'aveva salvato in vhs io ho visto che in un unico episodio da sei ore e mezza sette ore c'è viaggio nel mondo del paranormale di piero angela cioè la trasmissione originale voi andate a cercare in youtube se non vi è possibile comprare il libro perché è bello leggere il libro ma il libro è tratto da quella serie non è che che il libro non so se hanno fatto prima il libro con la serie magari sì ma qua ci sono tutte le interviste ai luminari della scienza e anche ai mentalisti ai paranormal isti come chiamarli perché non è un titolo però andate a guardare su youtube o sul web magari nel sito della rai bisogna iscriversi anche se gratuitamente credo e potete guardare la serie originale quindi è questo questa hanno fatto piero angela una serie non so di quanti episodi ma una durata totale di sei ore e mezza non so se 30 minuti episodio perché hanno registrato anche la sigla di inizio e di fine un altro libro che mio padre ha comprato e che costato sempre 9.000 lire allora edito nel 1980 questo nel 1980 l'altro nel 78 questo del 78 e il programma probabilmente anche il libro 78 questo le dell'ottanta comunque questa edizione e sì nell'ottanta prima edizione quindi dell'ottanta perché magari sempre basato su un'altra serie televisiva che però non ho trovato su youtube perché durerà di sicuro sei ore e mezza a otto nel cosmo alla ricerca della vita siamo soli nell'universo un viaggio tra molecole e galassie ecco nel quale lui smentisce tutte le pretese dei mentalisti dei diciamo delle persone che pretendono aver avuto dei contatti con marziani con extraterrestri con che hanno visto di schi volanti espone le testimonianze di alcuni alcuni contattisti alcuni tra i primi contattisti incluso che non sapevano di essere dei contattisti nel senso che appaiono le testimonianze per esempio a fare appare la testimonianza molto pittoresca molto maccaronica di una massaia di campagna che diceva di aver visto scendere dal cielo dei piattini volanti piccolini dai quali sono usciti dei grandi marziani e gli hanno rubato farina galline uova per poi decollare quindi si era negli anni 50 60 perché sono delle testimonianze che piero angela ci dà di decenni anteriori al 1980 anche di tutto il mondo si era trasmesso una vera psicosi collettiva quasi isteria collettiva e tutti a modo loro pensavano di vedere gli schi volanti e marziani marziani e gli schi volanti il fatto è che nessuno aveva visto nulla erano tutti parti dell'immaginazione però angela ci dice è possibile che esistono dei programmi tv nello spazio trasmessi da altre civiltà ma si pensa che il segnale sarebbe forse troppo debole per essere captato se invece ci fossero dei messaggi intenzionali trasmessi da radiofari il segnale potrebbe viaggiare molto in profondità nello spazio e lui si poneva il problema che in altre parti lo espone che prima che ci arrivi un radio messaggio magari intenzionalmente lanciato le profondità siderali dell'universo sono così grandi che magari da 20 mila miliardi di anni con la civiltà si è estinta nei ricomparso un'altra si è estinta di nuovo oppure prima che ci arrivi il messaggio ci siamo astenti noi poi le possibilità che ci sia vita extraterrestre ma perché per vita extraterrestre non si intenda necessariamente qualche marziano capace di viaggiare in dischi volanti alla velocità della luce ma magari stanno allo stesso grado evolutivo nostro che eravamo quando eravamo abitanti delle caverne oppure stanno nel medioevo nostro o nel rinascimento o incluso prima dell'avventura spaziale o che stanno a un grado tecnologico per il quale sono in grado di arrivare fino al loro giove o parte o mercurio o la luna ma non oltre i confini della loro del loro sistema solare o nella loro galassia perché anche se viaggiassero per tutta la galassia non sarebbero in grado di attraversare l'universo chi sa che parte remota dell'universo stanno e poi non è detto che non si stiano già estinti da tempo se sono riusciti a raggiungere una tecnologia capace di viaggiare da una parte e l'altra dell'universo è possibile che già a quest'ora non ci siano più quindi come dire possibile tutto è possibile che io debba iniziare a fare le live in un modo più più aggraziato diciamo perché allora vediamo un po salve come va bene 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 ci abbiamo ci abbiamo una nuova persona qua e mi fa piacere stavamo parlando del grande piero angela vediamo un po il grande piero angela che ha fatto una grande opera divulgativa e che è riuscito a trasmettere tanta cultura tanta informazione no vediamo un po è successo questo è fermata la live no funziona ecco qua dicevo adesso mi sono un po mutolito ma stavo leggendo tutto quello che mi scrivono che piero angela ha parlato molto della vita adesso mi ero soffermato su quest'opera che rappresenta tutto quello che ha detto in una trasmissione speciale nel cosmo alla ricerca della vita che le probabilità statistiche per le quali si può considerare che esista chiolo non te che mica caldo e sia un po però volevo volevo apparire un po elegante vabbè comunque non vi preoccupate perché è una felpa è una felpa usata usata infatti vedete come colorata come come pezzata come però dico sotto stoppeggio questa è proprio già a vent'anni già già vent'anni guardate sotto stoppeggio ma vabbè allora sto qua con questa maglietta però dicevo che stava di ma come ti chiami allora vediamo con la ciao e buon fine settimana salve con i nomi impronunciabili allora dicevo che che ha fatto molto per spiegare che ciò che è statisticamente probabile non necessariamente deve essere considerato probabile cioè ecco bravo bravo sono dei nickname veramente 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 sono sbalordito tanto non li posso leggere questi nickname mi dispiace però però mi piace che la gente c'è c'è la fantasia insomma poi se uno si chiama così vediamo un po allora fatemi delle domande perché le live basta caldaccio che piova nevega altro che piova deve nevicare ebbe magari nevicasse però avete delle cose dei contributi da dare circa piero angela che ricordi avete che cosa avete visto di e lui date il vostro contributo insomma che pensate perché ho voluto fare questa live proprio io 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 allora ma lei e veneto ho sentito che pronunciava bene le frasi in dialetto veneto o strega ciao ciao archidrim come stai ciao e buon fine settimana carissima amica mia e sai che dal gruppo adesso non posso scrivere non so che cosa è successo no però sono contento che che mi segui allora carati dream però angela era un bravo professionista e aveva una voce che ti faceva sentire a casa e sì io dicevo cara amica archidrim che io pratico l'ho seguito proprio da piccolino perché con meno di un anno mia madre lavava l'appartamento nel quale vivevamo abbiamo vissuto in tanti appartamenti fino a che io ho avuto tre anni e mezzo e ci siamo trasferiti a casa al paloco e vivevamo per esempio leon pancaldo a roma e mi metteva davanti alla televisione nel box mentre lei lavava o andava a fare la spesa io rimanevo guardando la rai che c'era poco pochi programmi e piero angela faceva il cronista e il giornalista san parla di libri ma dovrebbe guardare pure la chat sto bene grazie tu sì sto bene per fortuna comunque piero angela era una persona di cultura è molto disponibile nel diffondere la conoscenza nelle case degli italiani solo per sapere chi è bene teneva un tono posato era molto educato e poi vi consiglio di guardare forse si trovano a youtube le serie nel cosmo la ricerca della vita che ho commentato prima e viaggio nel mondo del paranormale che in parte ho commentato prima sapere chi è a saperlo non so quali gli interventi sono mozzicati vediamo un po ecco qua intanto io pubblico un po in giro così faccio sapere che che il mio video disponibile scusatemi ma intanto schese continuate a scrivere perché poi rispondo ma ho visto che che così funziona devo diffondere se no no non entra nessuno purtroppo non funziona la rotella del mouse poi io sto uscendo fuori quadro c'è sempre tanta pressione quando faccio ecco qua addirittura in fascio sono messo pagina vediamo un po ecco qua ma la rubrica letteraria naturalmente è una mia pagina sarebbe assurdo non mettere nella rubrica letteraria allora vediamo un po che avete fatto nel frattempo ciao 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 arci torna da san allora ciao arci vedo volevo chiederle come mai lei si definisce lo youtuber più famoso seguito al mondo spero che non mi frentenda con questa domanda non è mia intenzione darle fastidio no non mi dà fastidio le rego adesso perché buon fine settimana ci sta sempre un buon fine settimana soprattutto se venerdì beh io ho visto che il mio laconico san ten cian si distingueva molto come nome però era corto e ho voluto applicare la stessa teoria di coda larga che si mette nei titoli e nelle liste di riproduzione cioè chi va a cercare il san cian e quasi nessuno ma io ho visto che cercando lo youtuber più famoso lo youtuber più popolare lo youtuber infatti ho aperto un altro canale che ti faccio vedere l'eleganza no mi tocco gli orecchi ho aperto un altro canale lo youtuber più famoso non so come trovarlo l'altro che l'altro canale vediamo un po che ti faccio vedere e poi le visualizzazioni non sono aumentate molto ma lo youtube più no che se tu vai a cercare lo youtuber più famoso del mondo più pagato del mondo più pace ce n'è uno che c'ha 25 iscritti e quattro video e quindi ci sono un sacco di canali così e io mi ero scordato come si chiamava il mio ma ecco ho messo a questo canale lo youtuber italiano più famoso seguito e seguito al mondo perché c'è un altro che ha titolato modestamente il suo canale lo youtuber più pagato più seguito più famoso ci sono solo 100 caratteri da mettere per il nome ecco qua c'è il mio secondo canale del brand e allora è una politica di marketing in pratica sì ho ho risposto sto rispondendo se tu vai a cercare un mucchio di canali si mettono lo youtuber più famoso del mondo lo youtuber più seguito del mondo e poi hanno due o tre iscritti in pratica ecco basta vedere qua poi a parte che fra le molte una delle ricerche più assidue però qua ti metto il link della ricerca una delle ricerche più assidue proprio quella di cercare qual è lo youtuber più famoso più ricercato ecco qua questo è quello che io ho cercato non lo youtuber più famoso perché anche può cercare lo youtuber più pagato lo youtuber più visto lo youtuber ecco basta a vedere questa ricerca qua e vedrai che allora veri che sei contento o verai come devo pronunciare sei contento della risposta che ho dato che sono riuscito a dare si trattava di rendere più visibile il nome del canale siccome ho scoperto che lo youtuber più famoso lo youtuber più pagato lo youtuber più seguito lo youtuber più popolare youtuber più visto youtuber nel mondo e tutte queste combinazioni rendono abbastanza cioè sono molto ricercate e molto usate anche da persone che non hanno meno successo di me perché io ho quasi 2600 iscritti e non so quanti 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 video hai capito ma vediamo un po mi cerco io stesso ciò 1247 video 1247 video il canale ci avrà il 7 febbraio dieci anni ma ci sono persone che qua lo vedo se iscritti un video sono lo youtuber più famoso del mondo e già un video sei iscritti magari il canale c'ha vent'anni allora io sono il terzo della lista se voi guardate nel link che ho messo lo youtuber più famoso del mondo il primo della lista non so perché c'ha quattro iscritti e due video sono un utente google dice quindi il canale deve essere molto vecchio andiamo a vedere nei dettagli informazioni e del 24 febbraio 18 non è vero che un utente molto uno youtuber molto vecchio e già non c'era più google e non so google plus vediamo quanti video ha già due short 52 visualizzazioni 1 e 41 sensazioni l'altro e solo di quattro anni fa cioè dal 18 che non ha fatto più nulla poi c'è un altro utente e poi ci sono io e poi c'è lo youtuber più pagato di fano e del mondo 25 iscritti 4 video cioè ci sono un sacco di persone che si definiscono lo youtuber più italiana lo youtuber italiano adesso il logo e io ho messo nella descrizione salve io sono il sant'altro youtube italiano da 9 anni vabbè però qua lo youtuber più famoso del mondo vediamo un po nella descrizione che ho messo faccio video e non ho messo nella descrizione del youtuber più famoso del mondo ho messo soltanto promesso che poi per quanti mi vorranno mandare delle richieste di collaborazione c'è un email nel mio canale salve ricordo le atmosfere psichedeliche alla super quark che telefoni ti piacciono è tutti 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 bella la colonna sonora qualloc poni la domanda al sun devi chiarirlo per nome a se mi piace un lg un samsung iphone san sì no perché stavo occupato a leggere dei nomi dei canali poi poi dobbiamo ritornare al tema principale del video è veramente io vorrei volevo comprarmi un samsung galaxy s 22 ultra nel 21 no nel 21 non è ancora uscito 22 è riuscito il 21 però youtube mi impagò nel 21 e io gli vedi a mia madre questo che lei mi regalò a fine 2015 data un motorola moto it seconda generazione che fa video in 4k ma si riscalda come una padella perché perché a lei non gli piaceva il cellulare col tastierino che gli avevo regalato un nokia asha 302 quando vedete con la custodia e allora visto che youtube mi pagò gli avevo comprato un ai pro 9 w però l'operatrice mi dice che dovevo cambiare al chip 4g perché funzionava con chip 3g e io non sapendo che fare pensavo che non avrebbe più funzionato poi mi hanno detto se metti in un cellulare 3g un chip 4g probabilmente continua a funzionare gli ho detto ti passo il mio cellulare che a mia madre non gli piace il tattile infatti adesso questo in pratica non lo siamo più anche se il prepago e mia madre continua a caricarlo con la sua linea e io con i soldi che mi dai youtube e la differenza del cellulare con tastierino che ti ho preso che non è questi complete non era quel che completo mi compro un nuovo cellulare siccome non arrivava avrei potuto prendere un moto e siete però presso questo moto e siete i power che c'è a 5.000 micro ampere di batteria è già un anno che ce l'ho poi nel 2022 mi ha pagato di nuovo youtube quindi ormai mi paga a cadenza annuale quasi beh e leggi non so se è ritornata però con questo cellulare purtroppo a volte fatto fino alle 4 alle 5 del mattino quello col quale mi sto filmando perché c'è la batteria da 5.000 micro ampere secondo 80 per cento inizio a filmare a usare il cellulare come tablet alle 10 di notte con questo cellulare che già 2300 e passa se le 10 di notte iniziano ad utilizzarlo poi adesso che c'è molti anni se arrivo a luna del mattino alle 2 pure troppo quindi dalle 3 non passavo mi si spegneva per fortuna non molte volte mi è successo ma arrivava di sicuro quasi sempre il 15 per cento di ricarica poi è molto tempo che non l'utilizzo quindi tutto quel logorio si sarà compensato ma con questo invece che ancora nuova c'è 5.000 microamperio il rischio e di elegivo samsung e samsung credo che sia meglio comunque c'è da dire che le leggi lo davano per spacciato fino a poco tempo fa non so non so se non so se ma avete qualche domanda da fare il tiro angela allora io continuo a parlare perché poi le persone che guarderanno questo video diranno ma dai numeri ha dato i numeri per quanto tempo stiamo in aria 48 minuti all'inizio allora non arrancava la live poi mi sono messo a parlare d'altro le leggi o il capire le leggi non c'entrano molto parliamo di tiro angeli poi voglio vedere voglio vedere quando cerco qualcosa di certo non la trovo ecco questo è stato il mio vecchio samsung 50 galaxy yung 53 60 che mia madre mi ha comprato nel 2013 senza un galaxy yung 5 40 360 e poi quando trovo cerco delle cose non mi trovo mai logicamente non si è mai detto che riesca a trovare tutto il casino che ciò delle cose annocchiate ammazzate insomma io ci rinuncio a cercare da volte le cose non so neanche io dove trovarle ecco è questo il galaxy che vorrei perché ormai tutti cellulari samsung sono galaxy il galaxy s 22 ultra quindi se voi mi vorreste aiutare abbonatevi al mio canale intervenite nella chat con super chat o sticker e quando possibile fate clic sul cuoricino di un mio video perché facendo clic sul cuoricino di un mio video che è super grazie voi mi starete aiutando con del denaro che si evidenzierà il vostro commentario questo è stato il primo cellulare che ho avuto intelligente nel 2010 con il mio primo secondo computer che adesso sta nel placar le leggi kp 215 poi non ho avuto più nessun cellulare e leggi della samsung ho avuto soltanto questo i galassi yung 53 60 poi ho avuto della nokia soltanto questo il nokia a 302 invece della motorola ho avuto tanto questo motorola moto it seconda generazione come quello col quale mi sto filmando che non so se riuscite a vedere che sto facendo la live perché ormai non riesco tutti ad utilizzare la mia vecchia webcamera che in qualche video ve la faccio vedere ma ecco questo è il cellulare che vedete riflesso col quale mi sto filmando un motorola moto e siete i power che in pratica questo era ancora di cassa motorola il motorola col quale mi sto filmando mi sembra che della lenovo che sempre motorola ma va bene allora qua lo che abbonati e manda denaro al sun per il cellulare o regala tu un cella salula al sun kabilame è conosciuto nel mondo ha bene chi è kabilame illuminami scusate amici interessati intero angela cabi lame detto cabi è un influencer senegalese naturalizzato italiano famoso per i suoi video reaction muti di genere comico pubblicati su varie piattaforme e piattaforme ah ecco non dico il nome delle piattaforme perché l'utente più seguito nel mondo bene complimenti per lui però no io non voglio che mi si mandi a casa nulla si scrive così guarda kabilame preferisco ricevere del denaro preferisco capito preferisco comunque guardatevi guardatevi questo sito abbonatevi magari anche iscrivetevi perché lì non ci sono gli abbonamenti e ritornando al tema del video io credo che ogni tanto dovrò mettere dei timeline per quelli che saranno interessati soltanto ascoltare delle cose in memoria del grande tiro angela poi metterò il sottotitolo in 147 idiomi quindi mi toccherà correggere molte cose allora in questo libro di piero angela viaggio nel mondo del paranormale piero angela viaggia tra i tanti fenomeni paranormali e i loro paranormal isti produttori veramente mette alla berlina più che in rassegna tutta una serie di ciarlatani che si credono dei geni e chi è di geniale non hanno nulla vedo che in dive adesso siamo solo in due appena inizio a parlare di piero angela non so un sacco di amici mi sono venuti a trovare mi hanno dato anche 8 light però si direbbe che non mi interessa il tema del giorno perché appena parliamo d'altro sono 89 persone appena inizio a parlare di piero angela track è come se facessi vedere la croce a un demone però io mi sento il dovere innanzitutto di portare avanti un tema ed è quello quella una delle sfide più grandi che si hanno facendo una live perché ti vengono in live degli amici che vogliono vogliono a farti tante domande ma domande su qualsiasi altro tema e allora dicevo piero angela ha messo alla berlina un'infinità di ciao ginevra ciao carissima amica come come stai ginevra buon fine settimana tutto bene sì tutto bene anche da me tutto bene mi raccomando se mi puoi sostenere abbonati al canale partecipa con la super chat regala un abbonamento ecco quello che mi sono scordato di dire prima anche alle persone alle altre persone e che possono regalare un abbonamento al mio canale ci sono sei livelli potete scegliere oppure in uno dei miei video che vi è piaciuto per diciamo mettere in diritto il vostro commento fate click sull'icona forma di cuoricino vicino condividi grazie mille buon fine settimana allora potete regalare un abbonamento al mio canale semplicemente partecipando della chat e c'è un icono a forma di dollaro vicino al tastierino o vicino alle mogi mostra il tuo sostegno per sant'anciallo youtube l'italiano ed i suoi video blog a proposito ginevra ma io forse ti ho già ascoltato forse solite non facevi parte di quelli che frequentavamo mario circello perché mi sembra che ti ho ascoltato ti ho visto lì nelle live di mario circello e poi adesso siamo in tre era entrata un'altra persona eravamo a quattro che sto a dire quanti siamo e vabbè allora dicevo piero angela ha investigato scientificamente sui fenomeni del paranormale mario circello mario circello era famosissimo perché era considerato il re degli hangout e poi ti ricordo trash anarchico che se vuoi fare un regalo a qualcuno poi regalare un abbonamento al mio canale cioè sei livelli di abbonamento dal più basso al più alto e se vuoi evidenziare quando questo live sarà finita sarà disponibile come video un tuo commento ci sarà il cuoricino grazie accanto a condividi e questo vale per tutti i video allora mario circello cerca lo vediamo un po se io riesco a era bravo era bravo era bravo era era bravo era bravo era bravo qua ti do il suo link mario circello e poi vediamo un po ti faccio vedere un video molto divertente di mario circello che mi saluta molto divertente ecco qua goditelo perché imperdibile questo video non lo devi perdere adesso ti metto infatti c'è scritto anche nel titolo ecco guardati questo video esilarante mario circello mario circello il re degli hangout saluta dal vivo il suo amico santenchan imperdibile è veramente esilarante allora mi raccomando non ti perdere questo video di mario circello che ti ho messo mai visto no bello vedrai dopo veramente molto esilarante mario circello tiro angela che con l'aiuto anche di molti prestigi prestigi digitatori che hanno voluto smascherare le frodi che molte volte sono vincolate anche al denaro alla sottrazione di denaro ha investigato in questo libro tutti i vari mentalisti tutti quelli che dicono di avere come juri geller delle forze paranormali sì caro san si è stato molto competente tranquillo grazie mille sei molto buono allora qui persone che dicevano di avere una visione a distanza che riuscivano a indovinare quello che c'era in una scatola chiusa che riuscivano a fare delle fotografie tenendo l'obiettivo tappato della macchina fotografica che facevano di evitare ecco lo spiritismo è nato dalla foto di delle fate di queste ragazze qua fotografie di fate i folletti ritenute autentiche da sir arthur conando il autore di Sherlock Holmes poi le due ragazze quando già erano vecchie mi sembra prima di morire confessarono che era tutta una bufala però intanto lo spiritismo era nato da tempo loro avevano fatto soldi e sulla base di queste fotografie scattate da due ragazzine doi le schisse un libro intitolato l'arrivo delle fate che si vede chiaramente per i ritagli di carta poi con le macchine fotografiche di fine secolo è facile con uno spago addirittura non una cordicella uno spago appendere un ritaglio di carta nell'aria fotografarsi accanto e sembra che veramente una fata c'è davanti una fata bel cellulare italiano san non mi sembra di avere un cellulare italiano allora quest'opera che può sembrare che gli tolga il fascino che ha il paranormale ma è scientifica è provata nessuno ha detto i controlli scientifici quindi ci sono ancora in circolazione libri che sono parossistici che sono diciamo fanno l'apologia del paranormale e che sono dei libri menzogneri io ho letto anni fa letto ho dato uno sguardo infatti non so perché io pensi gli ho conservati gli avrei dovuto puntare misteri dell'occulto questo libro che mi è costato 25 mila lire soldi buttati al vento perché purtroppo io da giovane leggevo di tutto poi non ho potuto portare con me delle cose più importanti perché mi sono caricato con questi libri non tutti sono non tutti libri che ho sono così ma qua si raccontano tutti quei fenomeni per esempio l'arte di influenzare gli altri giochi di società il telefono senza figli telepatia nella vita quotidiana l'indovinello muto caccia al tesoro ma questo è un libro per bambini di cinque anni lettura chiaro e gente del seme della cara delle carte prove con un mazzo di carte da gioco il rosso e nero cioè qualche colore lo indovini un rosso nero non dovrini prima o poi queste sarebbero le cose paranormali indovinare il seme delle carte c'è una probabilità su 4 su 4 di azze carci le carte zen e accoppiamento aperto un accoppiamento aperto quindi voglio dire e quindi ricordatevi non comprare questo libro io ve lo dico per esperienza sono soldi buttati in eccesso non vi dico l'autrice e sarà pure uno pseudonimo la dei vecchi editori che ha fatto anche dei libri belli però evidentemente poi quest'altro edito dalle mediterranee che la rimes edizioni in pratica delle mediterranee della se dello stesso gruppo hanno iniziato a pubblicare nella rimes edizioni i libri più assurdi che nelle mediterranee non si sentivano di pubblicare anche se c'è molto challenge molto mentalismo la magia la scienza assoluta che interessante più interessante dell'altro libro che terra terra questo ma dice delle cose che non hanno né capo né coda anche se è bello a leggersi è bello a leggersi ma sono le stesse cracole insomma e poi ho letto un altro libro di diseducazione e di disinformazione da dan scuola di magia nel quale ti insegna in un anno a costruire un tempio o una sala del tempio con tutti gli arredi tutti i rituali i rituali per mettere la collocazione dei vari materiali e poi ti sei fatto un tempio magico appunto qua ti da addirittura le dimensioni della sala ideali per costruire una sala cerimoniale o varie non so deve costruire un edificio poi ti dice che se non riesce a costruire fisicamente un edificio lo puoi costruire mentalmente e qua addirittura ti dà gli abiti e le posture dei meditatori nell'antico agito quindi ti dovresti vestire come un antico agiziano le vie d'accesso astrale nei livelli più profondi costruzione dell'anima rivalutazione ed inizio della magia rituale fissare degli obiettivi più rigidi insomma questo dovrebbe essere una disciplina magica ispirata all'antico agito ma noi sappiamo tutte queste cose insomma allora il nokia ricorda un po un huawei si ricorda un huawei e ricorda anche però mi ricordo che i blackberry ormai iniziavano a non avere qualità quando io quando mia madre quando io regalo questo a mia madre nella fine del 2013 che in realtà il cellulare del 2011 e già più camera 2,3 megapixel a 6 40 per 4 tanta i blackberry filmavano a meno rimpiango il telefono e leggi peccato che non li vendano più e quello per fatti non li vedevo più i tuoi cani ti chiamano san sì ma come i miei cani mi chiamano io non li ho sentiti abbagliare tu li ha sentiti abbagliare santi scrivo sul pierangela dopo la fine del live si sa bella collezione dovresti venderli forse ne ne fai qualche guadagno ci stanno i collezionisti di telefoni datati tra arresti sì beh ma ci sono anche collezionisti di libri farlocchi dei libri che non si pubblicano più in buone condizioni come quei libri della magia molti della hermese edizioni non sono più pubblicati perché io penso che erano gli stessi autori che molte volte erano dei consultori di magia che facevano insomma taroccavano del denaro alla gente perché uno non è che si di che c'è mago soltanto per perché vuole miglientare delle doti così per milano sono anche dei megalomani ma il più delle volte che si dice mago si dice mago perché vuole farci quattrini vuole farci bei quattrini e quindi alla fine c'è nel loro consultorio di magia però un ragazzo africano che fa le facette di stupore o usa le mani gesticolando e dopo vedrò qualcuno dei suoi video appunto sì sì veri che meglio il denaro traccia anarchico e qualcuno ecco sì un mago l'uomo ne hai ragione un mago l'uomo ne così che ci vuoi fare per il denaro per il denaro cari amici balla pure la semia per il denaro poi vediamo qua youtube no un'altra rete vediamo un po' allora croce o demone ha ma no dai ho visto che ha fatto al tutorial su come mangiare si mi sembra devo cercare bene perché mi sembra che sta su un social che mi sembra che sta su un social che ho visto da qualche parte che prepara da mangiare ma come che lui strappa le confezioni butta tutto lì alla carlona forse si tratta di lui no che continua a ripetere si garmè si garmè si garmè forse si tratta di lui forse si tratta di lui vediamo un po' allora che ne pensi che ne pensa lei di giuseppe simone enrico pasquale pratico enrico pasquale pratico ho visto solo un suo video l'ho commentato ma non mi ha risposto si san mangia un bel piatto di pasta in live un panino la prossima volta a vabbè ma io ho fatto colazione nell'ultimo 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 video quello dove contenuti vediamo andate a vedere se mi vuoi vedere mangiare nel video che ecco qua ti lascio il link il link lì facevo colazione quando auguravo buon ferragosto buon ferragosto vi augurano youtube italiano più famoso popolare visto e seguito nel mondo tanto per non farmi mancare nulla addirittura più popolare visto e seguito sanse non leggi la chat molti utenti vanno via amico ah beh ma ho messo il link di giuseppe simone penso che ha avuto molto successo in una determinata epoca giuseppe simone però ha ecceduto con il trash ha ecceduto con le volgarità e lo hanno chiuso molti canali poi quando è ritornato non è ritornato con contenuto mai ritornato più trash più insultivo più dispettivo più cattivo più cattivito e guardate una delle mie live che ho fatto nel mio canale secondario che nessuno ha visto perché nel canale secondario ho scoperto che io ho messo il link nella chat che non è che va molta gente anche se io ho cambiato il nome quindi adesso spegniamo qua vediamo un po ecco qua vi rimetto il link il link dove io mangio se vi piace guardarvi guardare un video dove uno mangia ecco qua messo l'ultimo link che ho messo nel nella chat di dove io mangio però voglio dirvi qual antivirus ancora non ha antiviruzzato che giuseppe simone adesso per quanto mi è stato possibile vedere giuseppe simone adesso si è ridotto a insultare chi non lo segue a insultare chi gli manda dei regali economici a sua vita si è ridotto diciamo a livelli di veramente un po meschini lui che si ritiene un grande creatore i contenuti che parla soltanto dei regali che gli fanno ma ha fatto dei video molto interessanti nel passato anche se a livello trash ma erano molto divertenti erano dei video molto divertenti che ci avevano del potenziale una mendica roba a caso mentre l'altro vaneggia e si idolatra sì sì giuseppe simone chiedeva dei dei pacchi di cibo non so se ogni volta era lui che si regalava le cose o magari in realtà in realtà diciamo ci ci faceva perché magari magari nessone magari eco adesso lo vedi che fa colazione che parla che dice parolacce che fa tutto quello che vuole tanto non ha più la monetizzazione non ha più la monetizzazione si sente libero si sente libero di fare quello che vuole perché tanto e tanto chi è che glielo può impedire che glielo può impedire allora mendica mendica poi fa vedere in camera ma hanno mandato la spugnetta ma hanno mandato l'opio ma hanno mandato la polenta grazie grazie dal piemonte mi hanno mandato la polenta e se magna qualsiasi cosa e poi pasquale praticano anche lui allo stile di giuseppe simone insulta bullizza dice che è il meglio non in un video non ho capito di cosa stava parlando adesso io mi sono svegliato tardi vado a fare colazione vado a mangiare vado qua vado della inutile dargli dei consigli però bisogna dire che che io ho fatto questo video per parlare grandissimo ero angela e adesso ogni volta si va alla deriva perché giustamente giustamente non so che orientamento possa avere un canale così però non so se sono ancora operativi e quanti li seguano perché purtroppo oggigiorno fai del contenuto in rilevante magari ecco non voglio dire che loro facendo del contenuto rilevante evidentemente se hanno pubblico al loro contenuto rilevante ma non è rilevante ai fini di fare cose interessanti poi avevo molte visualizzazioni all'inizio quando questa live si è iniziata e adesso ne ho di meno non solo vediamo devo cercare dei gruppi dove degli amici ne facciano parte e poi che sia youtube italia ancora tre gruppi e poi basta vediamo no non riesco qua riesco a pubblicare vediamo un po angelo conte daniele fidanza basta di promozionare oppure promozionato non so come entrare vabbè solamente possono scrizioni effettuata ah è stato messo in temporaneamente passa questo gruppo non si può pubblicare allora molto bene grazie di saperlo e e e ma c'è sempre vabbè altri altri due o tre gruppi speriamo poi di non esagerare che bloccano ci hanno tutti la stessa immagine non riesce a distinguerli ecco qua daniele fidanzia marco rota vediamo un corpo perché qua in questo dice che ciò angelo conte adesso basta perché poi vedo che le reazioni sono molto lenti mica vengono a vedere la rai sempre angelo conto e daniele finanzi non c'è il moderatore qualcuno filtrato allora uno vabbè e qua c'è un intervento che riprendendo che non mi fanno più domande che cosa si può trarre dai programmi di piero angelo innanzitutto che sono molto obiettivi e insegnano molte cose e poi che bisogna trattare tutto obiettivamente e io a questo punto dopo un'ora e 31 minuti di live mi sento quasi quasi di salutarvi di acomi a tardi da voi e vi ringrazio di avermi seguito vediamo vi devo lasciare vi ringrazio di avermi seguito fin qua mi raccomando fate i bravi passate un buon fine settimana guardate video che adesso lascio a fine riproduzione video e tutte le video consigliati che avrete visto durante la riproduzione di questo video mi raccomando abbonatevi al mio canale aiutatemi ad andare avanti super grazie super chat tutto quello che sapete ciao ciao